Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Warzone. Oggi vi volevo proporre una nuova modalità che stavo vedendo qui, che io non ho mai giocato, ovviamente. Sterminatore di Re Terzetti, se non mi sbaglio, correggetemi se non si chiama così. Al posto del solito mallopo, denaro sporco, che comunque facciamo sempre, ci sono tantissimi altri video, se volete dateci un'occhiata. E prima di iniziare vi esorto a iscrivervi al nostro canale, a lasciare like, a seguirci sui nostri social, anche su Twitch, non vi dimenticate. Troverete tutto sotto in descrizione. E niente, partiamo. Allora, è la prima volta che ci gioco, quindi non so quale potrebbe essere il risultato. Sicuramente ci sarà da divertirsi, perché non so che cosa mi aspetta. Vediamo un po'. Però, appunto, è per fare qualcosa di diverso, magari la proviamo. Vediamo un attimo come si gioca. Aspettiamo. Sempre attese, molto brevi. Oh, eccoci. Non ve giudicate perché, appunto, è la prima volta, eh. Cioè, vuodico, proprio. Ma che so, è rimasto da solo? Ma... No, stavo leggendo. Evita il gas, combattimento, saccheggia e cattura, apri le casse, uccidi i re. Va bene. Approfittatene per fare pratica. Presto entreremo in azione. Eh, non ho già visto che c'è, perché è poca il mio gioco. E' contento. No, niente, questo, vabbè, è assoluto. Ho dato un nemico in arrivo. Ecco, appunto, mi è saltato. Strano che sono morti. Ancora. Ho dato un nemico in arrivo. Perfetto, dimme. Meglio. Ah, ma, aspettate, prima o poi, ovviamente, ci dovevo rimanere perché, se no, non siamo contenti. Comunque, questo gioco, quando non c'è giochi da un po'... Allenamento finito, inizia la vera battaglia. Di velocità. Indica un punto di lancio per il team. Li conduci tu. Ma io indico, se è niente. Ma che è sta cattara? Non c'è la vera battaglia. Mico in discesa nell'area operativa. Grazie. Ora siamo in passaggio. Ma, ma, ma. Ma dove va? Perché va? Mico in discesa nell'area operativa. Uno auto autorizzato su tutti i perfezzi. Vabbè sto capito che dove ho manco ora io Impazienza La zona sicura, presto Ho mille in discesa nell'area Oh, mi fai Ma non merito Eh ovviamente, certo Aspetta, ma un attimino a te Ma io comprendo che cosa io debba fare Oh, che sali di sta montagna Lo stile in discesa nell'area Occhio in alto UAB avanzato alleato sopra di qui Occhio in alto E' la prima volta che ti gioco Quindi sto, sto un attimo Con un secondino spiazzato E' eccomi in caso Ma stile volte che sto a morire Le volte che sto a morire Che sto a morire Per fortuna ci sono questi Che sono due fenomeni Quindi Credo eh Stile in discesa nell'area Occhio in alto Attacco a grappolo alleato in arrivo Stile in discesa nell'area Occhio in alto UAB nemico in volo Nemico a un UAB avanzato Pronti all'attacco Stile in discesa nell'area Occhio in alto 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 Eh vabbò Eh vabbè E vabbè Vabbè Questa è la prima partita La scoppa Non guarderemo me, in questo attimo comprendendo... Oggi a parte... Scesa nell'area! UAB alleato in zona! UAB alleato! UAB alleato in zona! Ostile in discesa nell'area! Occhio in alto! Ostile in discesa nell'area! Occhio in alto! UAB alleato in alto! UAB alleato in alto! Scusate, devo comprendere... Da farsi! Il solito genio da 6 km! Grande! Grande così! Grande così! Vabbè, però... Un po' seccati! Venga, dai! Non è che... Non è che... Il nemico ha un UAB avanzato! Pronti all'attacco! Aio, aio, l'olio e il peperolino! Va bene, mi sta avvisso che... Perché è il blasfo tranglio un po' Cacchio che pianta, ma che cosa siamo? Ma chi la giusta? Delirio 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 Incampo! All'altrame è peccato! Di nuovo in campo! Guardi alleato e trova! Solo attacca! Oh, eh, vabbè... Senta! Per delirio Per delirio Tutti là stanno, quindi c'è poco da fare Tutti qua stanno, eh, c'è poco da fare Tutti qua stanno! I bindi O stile in scesa nell'aria! Occhio in alto! Mancai! I bindi! 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 è un belirio Un belirio Piccoli di scena dell'aria operativa Si! Sa quello è mezz'ora che sta su quell'edificio sicuramente magari fa una minaccia che muore con gas gas in movimento non sto cercando di niente è il delirio credo, 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 credo è il delirio è il delirio modalità delirio E lì ho mord Beh, avveriamo un po' con tono Ho usato dei microi di attività Dove sei? Da che albero? Da quale? Onesto Onesto Ho stato un amico in arrivo Soldato nemico in arrivo Attacco a grappolo nemico A riparo Soldato nemico in arrivo Si arriva Soldato nemico in arrivo Preso movimento Soldato nemico in arrivo Drona GF Occhio in alto Preso Il nemico ha un UAB avanzato Pronti all'attacco Pronti all'attacco Soldato nemico in arrivo Soldato nemico in arrivo Soldato nemico in arrivo Alla nuova zona sicura Alla nuova zona sicura Ostile in discesa nell'area Ultima possibilità Finite il lavoro UAB nemico in volo Semi riempio in avvanzato Pronti all'attacco Ostile in discesa nell'area GAS in avvicinamento Soldato nemico in arrivo UAB nemico in volo Estilo in off Completely in aus mercato Edurno Com'al solido Però SEMO SEMO Guardi all'attacco Alleato sopra di noi He said he's in hand, he said he's in hand, he's in hand, he's a phenomenal result. E comunque che dire Adesso ne faccio un'altra Vediamo che cosa esce fuori Però non mi sta dispiacendo Ancora non ho capito Benissimo come giocare Però non mi sta dispiacendo Sinceramente non mi sta dispiacendo A volte è tirio totale Però non è finita E facciamocene un'altra Bocca odiga Appunto Cioè io sono entrato e ho cominciato a sparare tutti A caso Senza una logica Però Appunto c'è scritto Evita il gas Combatti Combattimento Dal ritmo elevato Tra più team In attesa dello schieramento Approfittatene per riscaldarvi Non mi ha fatto leggere Guardalo là Ho usato un nemico in arrivo Qualcuno mi testa Qualcuno mi testa Da tutte le parti Soldato nemico in arrivo Chi è qua? Ho dato un nemico in arrivo Come fate con me? Come fate con me? Quando sto a terra mi sparate Mi sono vendicato Bestie Soldato nemico in arrivo Ah certo Direttamente dalla Turchia Veiz Yusuf Omar Grande 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 così Continua così Grande Questa visto Fantasma Eccan Golitua Non ho capito Non ho capito Perché questa cosa Sta durando Cento A Ah Quella Lop Mannaggia Loro Sta durando Tre anni Ho dato un nemico In arrivo Ma dove cavolo Sì vabbè Poi mi metto qua sotto Proprio Per chidar pincione Vabbè Tanto vale muoversi Ho dato un nemico in arrivo Mi siete addestrati abbastanza Adesso Passo in serio Ah Ah ecco perché Non l'ho preso Perché Era finita Ok Non l'avevo preso Però Va bene Indica un punto di lancio Per il T Li conduci tu No no Fanatto Mi fido di te E atteriamo qui L'anima Le veste Vabbè E dai Allora però Ma guarda Ma guarda che cavolo Ma Di suicidi Rie Non so Vabbè Vabbè Allora Un volo avviato Vabbè Nemico in volo Mi fanno manco Tre Eoh E dai E no Sono dato nemico In arrivo E che cavare E con discesa Nell'aria Ma quello Ma quello Ma allora Dai Su Ma chi stava a sparare Quello da dieci minuti Senti tu Qua torri Che dice Camper Qua Che Vabbè Vier Vabbè 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 Così Va bene Così Va L'emico L'emico Vabbè Sì, è il delirio, è una... Sì, vabbè, pure il tuo abito è bombe, è il compartamento... Guarda qui, no! Avete del gas in arrivo! Avanzi! Bombardamento di fronte, il tuo abito è il nemico, su! Aspetta! È il treno camper! Fatto! Nemico morto! Occhio in alto! Il treno camperone! Il famoso traffic storico! È sempre... No, chi è in alto questo? La bandiera turca! Ma la bandiera turca quella! Oh, eh no, però! Eh, mi sono atterrato in faccia, vabbè! Sono idiota io! Mi ho atterrato in faccia! Mi ho atterrato proprio davanti, quindi... C'è pure da lì che... Dove atterri, atterri, tante vallotto le prendi, quindi... Io mi chiedo, il compagno mio là sopra, con quello là sotto, ma che sta a fa' Però, vabbè... Adesso... Mi sono particolari! Mi sono particolari! Oh no! Ostile in discesa nell'aria! Occhio in alto! Vabbè! DELIRIO Niente... Non... Non... Non si sa... Non si sa vabbè! Non si sa chi mi ha sparato! E' un DELIRIO! E' un DELIRIO! E' UN DELIRIO TOTALE! è molto caolica è molto caolica il nemico in discesa nell'area operativa mamma mia il nemico in discesa nell'area operativa il nemico ha una via avanzato camperamo se è qua dentro scusa no il nemico in volo in discesa nell'area operativa ma tu li fuori dei classi ma tu vai no no sta tempo qua ostile in discesa nell'area occhio in alto cazzo una carica la pratica quella quella mia campero spero che tutto vada bene che rimango qua tu vai ostile in discesa nell'area occhio in alto pensa in mira siamo agli sgoccioli completate la missione ostile in discesa nell'area cazzo un nemico in volo ostile in discesa nell'area occhio in alto cerchio riduzione ostile in discesa nell'area operativa occhio oh no no dobbiamo darci dobbiamo darci un po' male e no e che cavolo dovevo andare via prima e guadagnare insomma la zona sicura un pochettino prima però detto questo insomma vabbè non sto esattamente ancora capendo che cosa sto facendo io sparo a gente sperando di far bene magari piano piano se mi piace ne posso anche portare altri insomma di gameplay da totalità se la lasciano comunque vi esorto sempre a iscrivervi al nostro canale troverete molte serie interessanti quindi dateci una bella occhiata insomma diciamo che COD non è proprio una serie sono delle partite che faccio e le voglio condividere con voi insomma mentre ci sono tanti gameplay che invece sono proprio delle vere e proprie serie quindi giochi completi approfittatene per fare pratica presto entreremo in azione ecco in discesa nell'aria operativa di questo COD eh tra l'altro che è molto bella e merita parecchio sto aspettando tre di tante quello ultimo che dovrebbe uscire quello sulla guerra fredda che sembra molto interessante anche la campagna magari porterò anche quella adesso vediamo che organica mannaggia vabbè 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 quella torre lì è risaputa ma io lo so su quella torre c'è stato sempre il pechino è drastico però chi se ne frega tanto questo riscaldamento non è che me ne importi più di tanto quindi chi se ne frega vi siete addestrati abbastanza adesso si fa sul serio indica un punto di lancio per il team li conduci tu ecco la nostra sala di lancio pronti andiamo ovviamente ovviamente non so così stupido che a ferro lì io a ferro ai lati ho scelto l'esercito nell'area occhio in alto morte da pollo qui è un bel torno a combattere arrivi stiamo perdendo terreno vabbè un po' capitano UAB nemico in volo la zona è come te pare che sta porta si apre ti con discesa nell'area operativa ma se ne tirano non mi riesce non so fare ma minaggia a me che mirata oh questo è il meglio questo è il migliore dai nemico in discesa nell'area operativa questo è il migliore dannato questo il nemico ha un UAB avanzato soldato nemico in arrivo tutto l'ombra nemico in discesa nell'area operativa non d'è caso diventamente armesico eh me sono castrato mi dico che me sono un cappocchetto speriamo che qualcuno ci avutasse il nemico ha un UAB avanzato pronti all'attacco eccomi in campo io che scappo non vado verso il gas tentando di prendere il fuzio poi non lo prenderò mai perché io sono una pippa con questa mira chirurgica dovrei evitare che fa ste cose no vaga eh guarda che roba ne vengo a un UAB avanzato pronti all'attacco guarda che dove sei sommetti con discesa nell'area operativa oh eh male eh oh vabbè oh 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 ok oh 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 ecco ma solito mazza che culo a tuo giro no a quello non gli sparo io io Aio, aio, aio Un dato nemico in alto Sparano indietro Non vedo una fava, non sento una sedia Eh sì, vabbè, è arrivato È arrivato, è arrivato È arrivato coso qua Vabbè, perché non c'ho le granate Ovviamente Non c'ho le granate, ragazzi Vabbè, oggi ho deciso che Non so atterrare Oggi non so atterrare È perché te pia l'ansia con questo che te sparano Te prende in ansia Oh, ostile in discesa nell'area Occhio in alto Oh, eh, che macchina Chi è questo? Stico in discesa nell'area operativa Uh Gas in arrivo, alla nuova zona sicura Eh, vabbè, vabbè Sì, vabbè Oh, emico in arrivo Sì, vabbè, sì, vabbè, eh Sì, sceso nell'aria, occhio in alto Eccomi in cazzo Oh, 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 oh Ah, ti ho la motta, no, e dai Oh, che stavo a caricare Vabbè Vabbè, 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 vabbè Sì, lì, va Non so, non so, non so, non so E la giusta ha questi giochi Eh, che... Ma pure è interessante vedere come si è morto da... Da genio del male Come al solito Vabbè Questo non l'ho visto Questo non l'ho visto Scuso, l'ho scambiato per uno dei miei Pensa che l'ho imbambito Ah, questo è Sono cieco io L'ho scambiato per uno dei miei No Nel nemico ha un UAP avanzato Pronti all'attacco Voglato il nemico, il nemico Nel nemico Nel nemico, il nemico è un nemico Nel nemico, il nemico è un nemico Scusate, raga Direttamente da Roma Aiuto Dovado Chi è? Chi ha stirato? No, me la sei la superta Le chiappe Amico in discesa nell'area operativa Un UAP nemico è un volo Il nemico ha un UAP avanzato Pronti all'attacco Mi cassa le chiappe Eh, cosa ho qua Alle chiappe, avevo Ehi, vabbè Vabbè Sì, da là Tutti, tutti Ne vedono uno Sparano in 30 Gassi in arrivo Alla nuova passata Sì Guarda qui Ho dato nemico in arrivo Del nabo Del nabo No Devo, devo farci Vabbè, va sta Voglia di fare queste cose Vabbè In arrivo Nel nemico in discesa Nell'area operativa Alta strada da fare Poco tempo per farlo Chi è quell'altro Lo sta Eh, vabbè No, 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 no Così Nel nemico la sua via Passerà Io uno ho preso Poi d'arte Mi sembra Difficile Oh no 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 Un'ultima possibilità Oh Vabbè Vabbè Qui Qui è la mira mia Che fattivo Qui è la mira mia Che pessima No, 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 no Troppi 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 UAB Nemico in volo Mi piacere sta bene Il nemico A1B avanzato Pronti all'attacco Oh no Oh no Sopra Sopra Ma dai Era sopra di me Era sopra di me Era sopra di me Non l'ho visto Aio Occhio in alto grande no RIS niente ragazzi ce ne facciamo un'altra e poi vi la stiamo era tanto per vedere mazza oh ha fatto i 44 5 uccisi re uccisi 1 beh ragazzi appunto ce ne facciamo un'altra e poi vi lasciamo magari dalla prossima riuscirò a fare qualcosa insomma anche un pochettino di meglio sto capendo più o meno anche a livello di intensità quanto è veloce perché è molto veloce come in realtà appunto quindi mi devo abituare che poi c'è sempre il solito problema io sto da solo quindi non mi aiutano approfittate per fare pratica presto entreremo in azione che è che sto stai ho visto ostile in discesa nell'area occhio in alto soldato nemico in arrivo ostile in discesa nell'area occhio in alto scusate se non parlo ma sono concentrato soldato nemico in arrivo persaglia piazza una carica ma questo c'è che è stato affatto ha visto ha visto un santo ha visto un fantasma era fermo guarda non è arrivato in arrivo era completamente fermo quello raga che imbarazzante che non mi abbia visto è impossibile soldato nemico in arrivo ma che sta a fare questo? niente se sono sacrificati per la causa addestramento finito adesso mettetelo in pratica se sono sacrificati non si sa perché vabbè soldato indica un punto di lancio per il team daje Edison ecco la nostra zona di caccia state pronti mamma mia no 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 tutto detto tutto detto ma proprio ma è bene è bene forza tutto detto occhio in alto sento UAB nemico in volo gas in avvicinamento bersagli disponibili al lavoro il nemico ha un UAB avanzato pronti all'attacco allora tanto la zona si stringe mettete missa cerchiamo di non morire per il gas perché quello è veramente imbarazzante ma lì c'è qualcosa da prendere lì c'è qualcosa lì c'è qualcosa è quella cosa e arrivo io tranquillo così e si si ammazzano si sparano ostile in discesa nell'area occhio il nemico ha un UAB avanzato pronti all'attacco UAB nemico in volo ok ma questo è bene bombardamento di precisione alle atto attenzione ostile in discesa non ne sto da ne sto niente bravo porca britana pure io sono genio ostile in discesa nell'area UAB nemico in volo ma chi è è sempre no devo anche capire come muovermi è ancora ci metto un po' per comprendere lì attacco a grappolo alleato in arrivo poi quando ho capito come muovermi magari qualche soddisfazione riesco pure a regalarla lì c'è in discesa nell'area operativa ecco il bersaglio colpiteli attacco a grappolo nemico in discesa nell'area operativa gas in avvicinamento UAB nemico in volo ho preso nemico a un UAB avanzato ostile in discesa nell'area occhio in alto ostile in discesa ovvero non ci sia l'attacco non ci sia l'attacco ok 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 è puro che sta giochendo è un po' è un po' è un po' non ho ripiegato in tempo per questo sono morto come vorrei buttare appunto qualche bersaglio su quegli speciali che ci chiamano di tutto con molta calma è la prima volta attenzione ma che cosa oh questo è l'eterno abbiamo preso il controllo guabinemi con il volo postile in discesa nell'area attacco al campo alleato in mezzo guabinemi con il volo e alla c'è uno guabinemi con il volo mezzo ii allora tim Occhio in alto! 2 avv 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 alleato sopra di noi, ostile in discesa nell'area, occhio in alto avv 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 avv, pronti all'attacco! Si sto facendo l'ognorri, il codardo, il coniglio, lo so, no vado a farci... ... U avv 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 avv. Ora ho fatto una strage eh! No, 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 no! Osti all'attacco! Dai! E dai?! Ho scelto nell'area, u avv 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 avv, avv 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 avv! E figurate, poi siamo finiti qua, che todi che fa? il petto di più a fame so ostile in discesa nell'area occhio in alto aspetta aspetta è arrivato è arrivato lui è arrivato bombardamento di precisione alleato attenzione attacco a trappolo alleato occhio in alto oh vabbè mi sono fatto fregare questa è la confusione mi hanno fatto prendere un po' la la confusione iniziale ma tu proprio lì stai proprio piazzato sul vitticio ti stavi aspettando torno al combattimento arrivo eh questa cosa è assente in serio un po' il nemico in volo il nemico in vantaggio comunque non so che cosa sia succedendo però non dovremmo essere inessi male vero? bombardamento di precisione alleato UAV alleato in zona sul volo a piatto il nemico in discesa nell'area operativa attacco a trappolo alleato in arrivo il nemico in discesa nell'area operativa io pure ho già un attacco a trappolo il nemico a un guaddi avanzato pronti all'attacco il nemico in discesa nell'area operativa abbiamo preso il controllo vaffan casino gas in arrivo zona sicura riposizionata con discesa nell'area operativa commentiamola non commentiamola che è meglio la tipica morte da pollo eccola gas in avvicinamento la zona sicura ora o mai più soldato nemico in arrivo soldato nemico in arrivo lo sta ma mi da vista a bozo a bozo sono tornato contudio il nemico a UAB avanzato pronti all'attacco attacco a trappolo alleato in arrivo vabbè arriva a 10 minuti di questo anzi non stavo all'interno quindi atterrato so io che non l'ho finito parlo salto il nemico in discesa nell'area operativa e niente evidentemente stavo veramente brava forse e quindi sono arrivato secondo sono una pippa ragazzi guardate il primo quante uccisioni ha fatto veramente notevole comunque no no mazza 57 totali oh molto bravo comunque grazie no grazie e niente e niente ragazzi per questo video è tutto vi esorto se vi va a iscrivervi al nostro canale a seguirci sui nostri social e niente un saluto e alla prossima e alla prossima ciao ciao ciao